Ciao amici di MaCheNotizia e bentornati in un canale in cui torniamo a parlare di criptovalute e principalmente di Crypto.com Allora, ci sono due metodi per guadagnare con Crypto.com a rischio zero Due metodi che spesso vengono sottovalutati perché non li si capisce bene Cioè, l'errore che ho fatto anch'io una volta immerso in questo mondo è stato quello di utilizzare Crypto.com solo per speculare Cioè, cosa si intende? Andare a cercare di comprare le criptovalute quando valgono poco e cercare di rivenderle quando valgono tanto Questa modalità di speculazione chiaramente è uno degli utilizzi principali delle criptovalute Però ci sono due sistemi che invece ci possono tornare molto comodi per portarci a casa qualcosa in più rischiando praticamente niente Allora, andiamo a vederli. Ci sono due sistemi Innanzitutto schiacciamo il pulsante forma di gatto qua sotto E vediamo nella parte più in basso dell'interfaccia c'è Supercharger e c'è Earn Con Earn noi possiamo andare a investire le nostre criptovalute di preferenza Vedete qua io ho già un investimento in tre mesi che mi scade fra 16 giorni Clicchiamo il pulsante più in alto a destra e scegliamo la criptovaluta che vogliamo mettere giù E noi praticamente gliela diamo e gliela teniamo ferma e gliela prestiamo a loro in modo che loro possano fare quello che vogliono e noi ci danno indietro degli interessi Cosa succede? Noi possiamo farlo flessibile un mese o tre mesi E se la teniamo ferma per un mese non possiamo più prelevarla Quindi qual è il rischio? Che se in quel momento la schizzasse sul valore della criptovaluta che noi vogliamo vendere L'avremo tenuta ferma e non potremo più specularci sopra Però veniamo premiati con un 4% quindi se invece in quel mese là il valore crollasse non avremmo perso niente avremmo solo portato a casa Oltrimenti si può fare anche in tre mesi e si viene premiati di più col 6% anno su quei tre mesi là Però quello che noi possiamo fare sempre e comunque invece è la modalità flessibile Perché con la modalità flessibile è vero che prendiamo solo il 2% però il vantaggio è che possiamo togliergli istantaneamente Quindi se noi abbiamo comprato un certo tote di criptovalute e li teniamo là speculando sperando che aumentino di valore In modo significativo per poterle quindi vendere quando sono salite Nel frattempo attiviamo Flexible In questa maniera qua noi comunque cominciamo a portare a casa il 2% di quella somma lì Che va bene non è tanto ma è meglio di niente e nel frattempo che aspettiamo per rivenderle le teniamo là Quando dobbiamo rivenderle le tiriamo fuori e le vendiamo Quindi questa cosa va fatta praticamente sempre Un'altra cosa invece che si può fare che ci permette di prendere di più rischiando comunque niente Ma non sappiamo quanto di più è il supercharger Il supercharger è un pelo più complicato da capire infatti non l'ho usato all'inizio Mi sono perso alcune occasioni che vi voglio invece condividere Cosa è il supercharger? Il supercharger è un sistema in cui viene tirata dentro un'enorme quantità di criptovalute Grazie ai prestiti che fanno tutti i partecipanti di questo supercharger Per andare a minare una specifica criptovaluta di finanza decentralizzata Che cosa sono queste criptovalute? Sono criptovalute molto che stanno diventando sempre più famose Perché praticamente vanno a permettere l'uso di attività finanziarie Senza l'uso di banche come intermediarie Perché invece di sfruttare la banca come ente che va a rendere concreto una transazione finanziaria Si utilizza la tecnologia informatica principalmente su reti tipo quelle di Ethereum Quelli di Smart Contract In cui è possibile quindi fare dei contratti che vengono confermati dalla rete blockchain E non dalla banca Questo ha dei vantaggi non indifferenti per chi fa attività finanziarie Perché non deve più pagare le banche per i loro servizi E si utilizzano una rete di questo tipo Chiaramente questo tipo di rete deve venire creata e potenziata Quindi come si fa? Si chiedono soldini Ovvero token di criptovalute A chi li ha In modo che dandogli è come se avesse bloccato soldini Il supercharger premia in funzione di quanti token sono stati messi In proporzione alla liquidità di tutti quelli che hanno partecipato Ecco perché è molto importante partire col supercharger Appena questo esiste Buttando dentro tutto quello che abbiamo Perché comunque nel supercharger si può mettere e togliere in qualsiasi momento Non c'è nessun tipo di vincolo Solo che ogni ora viene fatto un rapporto tra quello che ho messo io E quello che hanno messo tutti E quello là sarà il punteggio che mi permetterà poi di venire premiato alla fine C'è un mese di supercharger E poi c'è un mese in cui le ricompense vengono erogate giorno per giorno Quindi alla fin fine noi li rivedremo indietro tra due mesi Però avremo un rischio zero Se noi andiamo a vedere ad esempio gli eventi passati E c'è stato bitcoin all'inizio Poi cadotto Poi c'è stato zilli qua E adesso si sta partendo col near Sono tutti eventi che hanno dato indietro un circa 10% di profitto di media E perché è importante partire subito? Perché il calcolo del rapporto tra quello che avete dato voi e quello che mette la rete Viene fatto ogni ora All'inizio la rete è più piccola Perché più passa il tempo più la gente butta dentro E quindi più il rapporto tra quello che avete contribuito voi e la rete si abbassa E allora in quel momento là vale meno Infatti un approccio che proverò io al prossimo giro Sarà buttare dentro tutto i primi 3-4 giorni E poi togliere per spostarmi su altre forme tipo il flexible o learn classico Che cosa succede quando si inizia il periodo di reward? Quando viene fuori il periodo di reward dovete ricordarvi di accettare il reward Questa cosa non ne capisco il senso Cioè è ovvio che uno dovrebbe accettare il reward Ma se non lo fate li perdete Quindi attenzione quando scade il mese Basta fare un click e ve li portate a casa Vedete qua ad esempio Del Zilli qua Io cosa è successo? Nella pool ok Sono stati buttati dentro 487.170.997.000 cro E poi centesimi Quindi il mio liquidity score Cioè il rapporto tra quello che ho buttato dentro io E quello che ha buttato dentro la rete È stato dello 0.0000372 Ok Quindi io alla fine Ci guadagno in un mese 13,85 Di queste Zilli qua E Spesso questa cosa si fa con delle Con delle criptovalute Che magari sono nata da poco Non valgono molto Quindi poi non se le tiene là E probabilmente aumenteranno molto Molto di valori in futuro Pensate che ad esempio Guardate un po' Il supercharger Del bitcoin Era stato fatto Vediamo se c'è la data No non c'è la data Sì più o meno Era stata fatta in gennaio Io l'avevo capito tardi Ha portato a casa pochissimo bitcoin Però il bitcoin Però il bitcoin poi è esploso Come valore E quindi Anche portandone a casa pochi Poi in realtà il bitcoin Ha triplicato Quadruplicato il suo valore E quindi spesso Conviene quindi portarci a casa Queste Criptovalute Potete tenersele là E specularci sopra Quando il valore È aumentato molto Spero che con questo video Vi sia più chiaro Cosa è l'erane Cosa è il supercharger Che io non li avevo sfruttati Ah ultima cosa I soldi Che le cripto Che mettete Nel supercharger Ovviamente Devono essere cro Perché è una cosa Che il cripto Tende a pompare L'utilizzo Della propria criptovaluta E se dopo Non li togliete là Restano pronti Per la pool successiva Quindi io li butto là E continuano a macinare Spero che questo video Vi sia piaciuto E lasciatemi pure Qualsiasi tipo di domanda Nei commenti sottostanti Già che ci sono Vi lascio anche Il mio link di affiliazione Quindi se volete Provare anche voi Vi registrate È un link Alla pari Vuol dire che Voi vi portate a casa 25 dollari Di cro E anch'io Per ottenerli Basta fare Uno staking iniziale Mi sembra di 1000 cro 2500 Non mi ricordo Insomma Comunque cifre Assolutamente ragionevoli Si parla del centinaio di euro Quindi non è che Anzi state sempre Molto attenti Quando fate queste cose Non farvi prendere la mano E non rischiare Più di quanto potete E quindi Insomma Vi lascio il link In descrizione E se vi piace Questo video Iscrivetevi al canale Ne farò anche altri Attivate le campanelle Per restare sempre aggiornati E buona giornata a tutti E buona giornata a tutti